buongiorno a tutti oggi siamo a bellizzona per mostrarvi questo due mezzo locali siamo al quarto piano di questa palazzina entrando all'interno dell'appartamento veniamo accolti da questo corridoio sulla parte destra si sviluppa tutta la zona giorno frontalmente all'ingresso la cucina mentre sulla sinistra il bagno e la camera procediamo a sinistra e vediamo subito il bagno un bagno composto di specchiera lavabo una comoda vasca pc e bidet alla destra del bagno abbiamo la camera una camera all'interno del quale troviamo questo ripostiglio ecco qui la stanza proseguiamo con la nostra visita e come detto prima frontalmente all'ingresso abbiamo la cucina una cucina composta di frigorifero congelatore piano cottura in vetro ceramica forno e lavabo proseguendo poi sulla destra dell'ingresso come detto prima si apre tutta la zona giorno una zona giorno veramente grande caratterizzata da questa porta finestra che ci porta su un balcone se vi è piaciuto questo appartamento e volete avere maggiori informazioni contattateci al 00 41 91 921 24 28 ti affitto